Questo programma è realizzato in collaborazione con Sostenibilità è la parola chiave del futuro e Redel Green Energy si occupa da più di 40 anni di efficientamento energetico ed energie rinnovabili Il futuro è green Scegli Redel Ti sei diplomato da poco o vuoi completare i tuoi studi universitari? Studia da casa senza rinunciare a niente e spendi di meno Con Possidonea raggiungerai il tuo obiettivo sfruttando al meglio il tuo tempo La vita è una grande avventura Semar Elettricità, dove c'è luce Stai arrivando? Arrivo Amaro del Capo Buonasera a tutti amici sportivi calabresi non solo Sta scivolando via il 2023 Come sta scivolando via anche la prima parte dei torni direttantistici Dalla quarta serie a scendere In questa giornata la partita più importante si giocava a Siracusa Un pareggio che ovviamente ha soddisfatto il Travani Che è aumentato di due punti sia sul Siracusa e sia sulla Viponese Non basta un buon Locri per soppare la Regina che proprio a tre minuti alla fine conosce la vittoria grazie ad un calcio di rigore Notte fonda, anzi fondissima per la Gioiesa che perde l'ennesima partita Adesso forse nemmeno un miracolo la può salvare dalla permanenza nel campionato di quarta serie Inizia le ravancine sulla panchina del San Luca 0-0 contro l'Akragas Ma ai punti sicuramente avrebbe meritato qualcosa di in più la compagine aspromontana Nel campionato di regionale calabrese aumenta il vantaggio il Sambiase Che vince l'anticipo di sabato contro la Stilese Pareggia il Soriano e incalza il Cittanova Questa sera faremo un po' il punto della situazione Parlando anche della semifinale ritorno che si giocherà questo mercoledì Tra il Trebisaccio e il Sambiase Quest'ultima ha vinto l'andata 2-0 E poi a Cittanova tra i locali ed il Bocale All'andata, gara che si è terminata sullo 0-0 Saluto e ringrazio immensamente il mio amico, nonché il tecnico, Giuseppe Saladino Buonasera, grazie E ritrovo anche con molto piacere il direttore sportivo del Cittanova Calcio Giovanni Condemi Buonasera e grazie dell'invito E allora Giuseppe, iniziamo subito prima di vedere i gol di questa giornata del campionato di quarta serie Abbiamo detto prima, la gara più importante si giocava a Siracusa Per quello che ha fatto vedere la Bibonesi avrebbe meritato di portare a casa l'intera posta in palio E' un pareggio che alla fine, anche se ancora mancano alcune giornate alla fine del giorno di andata E poi tutto il ritorno, un pareggio che non serve altro che far aumentare il vantaggio del Trapani Sì, è vero, anche se mi hanno detto chi ha seguito la partita che la Bibonese forse meritava pure qualcosina in più Secondo me nessuno si aspettava questo campionato della Bibonese Fatto sta che ha scelto, secondo me, uno dei migliori allenatori sulla piazza Perché uno che lavora nella primavera dell'Empoli vuol dire che ha tante qualità Hanno fatto una squadra giovane e secondo me l'allenatore lo hanno azzeccato Poi il direttore Remondina è uno grande conoscitore anche di talenti, tra virgolette Quindi secondo me c'è stato un bel connubio e i distruttori si vedono Direttore Condemo, ovviamente più tardi vedremo anche queste immagini Una ferita abbastanza aperta Quando si parla di Gioiese, tu sei di Gioetauro Conosci molto bene l'ambiente viola Però la sconfitta di questa domenica con il Ragusa Mette una pietra quasi definitiva per quello che riguarda la permanenza in questo campionato Una pietra tombale Guarda Nino, hanno sbagliato all'inizio per andare via no c'era E molti giocatori A me mi dispiace perché vivo da 45 anni a Gioetauro e mi sento un gioiese C'è una situazione molto molto critica Però io devo dire che questi ragazzi che sono rimasti Stanno portando veramente in alto il nome della gioiese Però il calcio, si può pure perdere Di questi ragazzi ne voglio parlare più tardi Perché meritano a meno da parte mia un plauso Perché ci stanno e ci metteranno la faccia ancora per tutto il girone di ritorno E per quelle poche partite che rimarranno per la conclusione del girone di Anderra Non vorrei che diventasse un alibi fino al prossimo mese di aprire Cioè quello che andare via non c'era Quelli che sono andati via tanti gioiesi Sta di fatto che c'era tutto il tempo eventualmente per recuperare Il problema che poi lo affronteremo anche con Giovanni Visto che lui ci abita a Gioetauro e conosce molto bene anche il tessuto economico di Gioetauro Il problema è che credo sia mancato Oltre il polivalente sia mancato proprio la materia principale Cioè l'imprenditoria che si avvicinasse alla prima squadra della città di Gioetauro Adesso andiamo a vedere tutti i gol di questa settimana Sono stati veramente tanti grazie al contributo di Raffaele Musumeci La notizia del giorno è che il Trapani è in fuga Gli Amaranto sbancano Licata e approfittano del pari tra Siracusa e Vibonese Per arrampicarsi a più 4 sugli Aretusei e a più 5 sui Calabresi Non è stato facile tutt'altro per la capolista nel derby con Licata Al vantaggio ospite pennellato da Kragl su punizione Aveva infatti risposto il solito gol di Minacori Questa volta di testa e con qualche colpa da parte del portiere Amaranto Nella ripresa però il Trapani si riprende i tre punti con la deviazione sotto misura di Ba Siracusa e Vibonese fanno un favore alla capolista Fermandosi reciprocamente nel big match del De Simone Avanti la Vibonese con un contropiede al Fulmicotone Avviato da Ciotti e finalizzato da Convitto Non ci sta il Siracusa che pareggia grazie a un gentile omaggio della difesa rosso-blu Che consente a Maggio di incornare in rete Ma prima dell'intervallo lo torna avanti la squadra calabrese Sennetto il fallo dal rigore e dal dischetto Tandara fa 1-2 Nella ripresa però il Siracusa trova con Zampa il gran tiro che vale il pareggio Con il Casal Nuovo fermo per il turno di sosta così come il Sant'Agata Ad approfittare del K.O. interno dell'Icata è la sola LFA Reggio Calabria Che si arrampica in zona playoff superando 1-0 il Locri Grazie al calcio di rigore nel finale procurato da Provazza e trasformato da Barilla Risalgono in classifica a Cireale e San Cataldese I Granata superano 1-0 il Canicatti grazie al colpo di testa di Lococo nel primo tempo I Verde Amaranto espugnano Barcellona Pozzo di Gotto grazie alle reti nella ripresa di Varela prima E di Mazza poi facile tapina ancora su invito di Varela In coda pesanti capitomboli di Castrovillari e Gioiese Il Castrovillari viene travolto dal portici nello scontro diretto per 5-0 Maione in velocità si beve tutta la difesa rosso-nero e va a segnare la rete dell'1-0 Nella ripresa di Laga la squadra campana che raddoppia con il Rasoterra di Schiavi Poi sale in cattedra Maione che nel giro di due minuti completa la sua tripletta personale Prima con una sassata dalla distanza Poi con un appoggio in rete da due passi Il pocherissimo lo mette a segno Prisco con un potente diagonale Ne prende solo 4 la Gioiese in casa contro il Ragusa Potrebbero passare per primi calabresi Di Marizzo che si era procurato il rigore lo sbaglia tirandolo addosso a Freddi E per la legge non scritta del calcio Gol sbagliato, gol subito Poco dopo arriva il vantaggio siciliano firmato da Tuccio Nella ripresa botta e risposta nel giro di 8 minuti Romano segna il 2-0 per i siciliani Gol non coperto dalle immagini Poi l'esperto Bencalchi trova il 2-1 su punizione deviata dalla barriera Nel finale allungano però gli azzurri Prima con il tocco morbido di Eggiachi Lasciato solo nel cuore dell'area di rigore Poi con il diagonale di Vitelli nel recupero Finisce senza reti la gara tra San Luca e Acraga Su un punto che fa muovere la classifica dei giallorossi Troppo poco però per poter pensare a una salvezza che non passi dai play-out Giuseppe ce lo stiamo ripetendo da anni Non da mesi e non da settimane Che purtroppo le calabresi continuano a soffrire in questi campionati Io dico una cosa Se tu vinci un campionato di eccellenza Devi essere consapevole che il campionato di quarta serie Che si avvicina sempre di più al professionismo Hanno bisogno anche di una base economica solida E qui arriva la Giovese La Giovese nello scorso anno ha fatto un campionato straordinario Ha vinto tutto quello che c'era da vincere Ma poi si è scontrata con una realtà totalmente diversa rispetto ai campionati regionali Doppe trasferte, contratti molto importanti Giocatori con cognomi pesanti E questo alla fine per una società che non ha sponsor, non ha campo Fanno una differenza Ma non solo perché poi vai a prendere il giocatore di fuori Da dare vitto, vitti alloggio Magari come diceva prima il direttore C'erano tanti gioiesi che meritavano anche questa categoria Dopo averla vinta sul campo Magari provare fino a dicembre con i ragazzi locali Che secondo me sono anche tutti validi Potevano starci benissimo Anche perché ho visto il campionato Meno male cacciate quelle 3-4 squadre che stanno in beta Mi sembra un campionato abbastanza normale Quindi si sono scontrati con questa realtà Poi come hai detto tu Siamo alle porte del professionismo e devi fare le cose per bene Pasquale se puoi andare sul filmato della gioiese E così bypassiamo per il momento Sia quello di Reggio Canapes Sia quello di Stacusa Giovanni tu conosci molto bene questo campionato Sia per averlo giocato tanti anni fa Quando il campionato di Serie D di anni fa Era un campionato credo di Serie B di adesso E sia come dirigente Quando giocavo io era un campionato diverso Non c'erano tutte queste squadre che si ritiravano Io dico solo una cosa La gioiesi mi dispiace Vedertela là in fondo Ma soprattutto per i tifosi di gioia Il gioia d'Aura secondo me un grosso equilibrio economico Poteva fare una buona squadra Ma qualcuno che ha sbagliato Secondo me non deve dire che i giocatori di gioia sono andati via per altri problemi I giocatori di gioia sono andati via per i problemi che loro sanno Una squadra che vince un campionato E da gennaio non prendeva soldi Mi sembra strano Io mi auguro caro Giovanni La domanda che hai fatto ad un abbinato di gioia d'Aura Io mi auguro che i dirigenti della gioiesi Non so se ci rimarranno anche un altro anno Possono iniziare sin da adesso A programmare un eventuale Non voglio decretare la fine adesso della gioiesi Però mi rendo perfettamente conto Che è molto difficile rimanere in quarta serie Possa programmare un campionato regionale A vincere Ma soprattutto che abbiano anche le basi economiche abbastanza solide E soprattutto che possono rientrare in possesso del poliponente Ma Nino io ho dubbi su questo Giovetauro l'anno scorso hanno vinto un campionato meritatamente Hanno fatto la tripletta, hanno vinto tutto C'erano giocatori di gioia che meritavano questi palcosceni di serie D Qualcuno che ha sbagliato Deve farsi un mea culpa Perché mandare un allenatore vincente come Graziano non c'era La fortuna ce l'ho io a Città Nova E' uno dei migliori che c'è in giro E mandarlo via E' una cosa non sbagliata ma sbagliatissima A proposito di mandare via abbiamo visto le immagini Pasquale puoi fare un triplice salto in avanti Vai a Branca Leone E ti posizioni sul filmato della Vigor Perché fino a qualche settimana fa Giuseppe Saladino era il timone della Vigor La Mezzia E poi non so quello che è successo Perché purtroppo dicono che non si possono cambiare 11 calciatori E alla fine quello che paga è l'allenatore Poi magari arriva un altro Non c'è il cambio passo E si ritorna con quello che c'era in precedenza A proposito il cambio di passo non c'è stato alla Mezzia Io ti parlo del mio sonoro Ora non so se c'è stato o non c'è stato il cambio di passo Non ci affidiamo ai risultati L'ho preso un po' scottato questo sonoro Perché non me l'aspettavo Anche se i risultati un pochino erano così Ma stavamo al terzo posto A 4 punti dalla prima classifica Con un derby, uno sconto diretto da giocare Quindi la società ha scelto per il mio sonoro Ho accettato questo sonoro Ma figurati perché so che a pagare è sempre l'allenatore Auguro veramente tutto il bene ai ragazzi E alla Vigor La Mezzia Spero che arrivino fino alla fine di fare bene Ecco Giuseppe la piana di La Mezzia non è una piana come le altre Il calcio che si fa in La Mezzia non è il calcio come si fa in altri posti Ma evidentemente chiedo scusa se qualcuno la possa prendere Questo mio parere in maniera antipatico Però io penso che la società forse tra il ritiro dell'FC La Mezzia Tra il fatto che il Sambiase aveva lesione una squadra per vincere il campionato La Mezzia e La Mezzia C'ha un grande blasono alle spalle E forse non sono riusciti Come ti posso dire A supportare da questo punto di vista il tecnico Allora io ti dico come ha detto prima il direttore Perché La Vigor La Mezzia non aveva un campo fino a quando ci stavo io Non aveva il dipolto perché il dipolto era in gestione dell'FC Quindi non ci allenevamo fuori città In quel di Pianopoli Andando avanti e indietro Con tantissime difficoltà di organizzazione, di struttura E una società come La Vigor La Mezzia Un blasone come La Vigor La Mezzia Non è riuscita bene o male a soprire tutto questo Ma io non mi sono mai lamentato Per me non ero in alibi il campo O gli infortuni, le squalifiche Io andavo al campo e lavoravo Perché oltre ad essere un dipendente della Vigor La Mezza Era anche un tifoso Sono ancora un tifoso della Vigor La Mezza Quindi poi il fatto che c'era il Sambiasi Che ha speso un sacco di soldi Lo sanno tutti Per fare una grande squadra Perché secondo me il Sambiasi è anche una grande squadra Un pochino si va anche di fretta No, il Sambiasi vince La Vigor La Mezza deve vincere Quindi un pochettino bisogna essere anche Crescere su tanti aspetti Ecco, dicevamo prima direttore che il calcio è cambiato Non solo dal punto di vista tecnico Ma anche dal punto di vista organizzativo Diceva giustamente Giuseppe prima Bisogna crescere Bisogna anche aspettare Anche lì a Cittanova Tu hai visto un organico importante Io ho visto due o tre partite E sinceramente per me Cittanova Ha un organico molto ma molto importante Una squadra che gioca molto bene E forse lì c'è stato anche in qualche frangente Che la società un attimino Aveva pensato in maniera diversa Rispetto Non è così Nino La società è una società seria Su questo non ci sono dubbi Il presidente è contestabile Poi c'è D'Agostino C'è il dottore De Mattese I condomiti Mi dimentico qualcuno Però ti posso dire che Noi stiamo tranquilli Su tutto Io l'unica cosa che rimpiango Che abbiamo fatto 6 settemane Scusa che ti interrompo Giovanni andiamo al filmato del Cittanova Se è possibile Prego L'unica cosa che io rimpiango Che abbiamo fatto 6 settemane E' il 94 Io dico Sono convinto che questa squadra è forte Ma no che te lo dico io Poi Gli allenatori non è che si cambiano E si fanno bene C'è il momento che cambia l'allenatore E fai male C'è il momento che cambia l'allenatore E si fa bene Io Con tutto il rispetto Qua per il mister Che è qua con me Allora io Con il mister mio Che cosa dovevo fare Lo dovevo mandare via No Ci sono partite che Sportunatamente Ci sono andati mali Ma no che abbiamo perso Perché noi su 22 partite Ne abbiamo perso Una alla mezza e non meritavamo di perdere Con 5 assenze Molte Molte importanti Io dico che Un direttore sportivo Deve coprire sempre L'allenatore Perché se il direttore sportivo Prende Un allenatore E poi Questo allenatore Lo mandano via Sicuramente Ha sbagliato pure lui Ma il direttore sportivo Deve andare via pure lui Il gergo nostro È la classica spugna Tra la società E la squadra Io C'ho un tecnico Che ti posso dire Che è bravo Io Contro il Suriano Mi sembra che tu c'eri Certo 20 minuti L'abbiamo fatto poi Abbiamo avuto infortuni Però il Ministro mio A fine partita Mi ha chiamato E io gli ho detto di no Gli ho detto Se vai via tu Vado via pure io Perché è così Se io porto l'allenatore A signor Graziano Nocera E poi lo lascio solo Lui se ne va Io il resto È sbagliato Quando mi dice questo Mi mando un access Caro Giuseppe Con tutto il rispetto Per Antonio Che era il tuo ex direttore sportivo Probabilmente Non sei stato tutelato Tu in questa occasione Oppure no Allora Questa domanda Io non Non rispondo Non rispondo Perché secondo me Sì L'ultima alla fine Il direttore fa di tutto Per tenere il proprio allenatore Non gli allacciano Il numero Dei numeri Che ha detto il direttore La vigola mezza Con Saladino Negli ultimi undici mesi Presto solo una volta A scalea Sono parlato di undici mesi Quindi Quindi È una cosa Che veramente Non ci stavo pensando Mi è arrivato Ora Mi ha acceso la lampadina Grazie Grazie al direttore Quindi No Per quanto riguarda Il direttore Morelli Io so Che mi ha Mi ha tutelato Nelle sedi opportune In sede Tra di loro Quindi Anche il direttore Generale In Saugello Ma questa decisione Forse è nata Da qualcun altro Perché pensava Che magari Il derby Non si poteva vincere Con Saladino In panchina Non si poteva Finire un campionato Degno Del nome Che porta La vigola mezza Sono scelte Che la società Ha fatto Io Accetto Accetto Perché non Voglio ricordarti Che ancora Sono dipendente Anche della Della vigola mezza Sono anche A loro disposizione Casomai succeda qualcosa Penso di no Quindi Ho la fortuna Di ricevere ancora Tante chiamate Dalla società Di promozione Ma non Non me la sento Ancora Di scendere Di categoria Dopo quello Che ho fatto L'anno scorso Quindi aspetto Osservo Faccio pubblica relazione Grazie anche Anche a te Grazie al direttore Vanno a vedere partite Tanti under Quindi mi tengo Sempre informato E aggiornato Tra virgolette Ritorniamo al campionato Di serie D E ritorniamo Al granillo Anzi torniamo Al granillo Per questa vittoria Ottenuta Nei minuti finali Dalla parte Della LFA Reggio Alabio Contro i Logri Mi corre l'obbligo Di fare Il compimento A Maurizio Panarello È riuscito A disegnare Tatticamente Una squadra perfetta Il Logri Avrebbe Sicuramente Meritato Di portare a casa Un risultato Di parità Solamente Che nei minuti finali C'è stata questa Ingenuità Su Provazza Un rigore Sacro santo Dopo un primo tempo Giocato veramente In maniera Non perfetta Da parte Della Reggio Calabria Vicersi I Logri È stato pungente In parecchie circostanze Poi Nella ripresa Il tecnico Della Reggio Calabria Ha cambiato qualcosa Soprattutto con L'ingresso Di Provazza Si è vista Molta più Dinamicità Si è vista Molta più Velocità Provazza Nell'uno contro uno Terria La superazione numerica Infatti In una Di queste azioni È nata Il gol Giovanni Bari Palermo Catania Adesso Reggio Calabria Le prime Quattro Le prime tre Sono riuscite Al primo colpo Di stravincere Del campionato A Reggio Calabria Si deve accontentare Mi auguro di poter Al momento Nei playoff Di poter rimanere Nel campionato Nei playoff Poi non è vero Quello che dicono Che le grandi squadre E stravincone Il campionato Il campionato di Serie D È sempre un campionato Tutto particolare Guarda Lino Io per dirti la verità Sono stato Dal primo momento A dire che Per me La Fenice Si chiama Amare La Fenice Che non andava lontano Con tutto il rispetto Per il Mister Trocini Io la vedo In un altro modo L'ho scritto pure Su vari siti Per me L'allenatore Doveva essere Ciccio Cozza Perché il pubblico Di Reggio Lo ama ancora È un allenatore valido L'allenatore Che mi dispiace Vederlo fuori Qua la situazione È questa Non solo A livello economico Come sono messi Perché si dice Che vendono Poi se ne vanno Poi tornano Vedo Vedo dei direttori sportivi Che fanno I direttori sportivi Non vogliono essere critico Che non sanno Nemmeno loro Che cosa fare Un giorno Dicono una cosa Un giorno Ne dicono l'altra A me mi dispiace Per Reggio Calabria Perché merita Anche Ecco qui Rivediamo Sto rigore Magari meno Comentere Possiamo andare Poco vuoi indietro Pasquale Perché ci siamo Diluncati sulla risposta Di Condemino Abbiamo visto il rigore Se me lo potete commentare Secondo me Secondo me Questo era il rigore Ingegnità Da parte del difensore Dell'Ocri Oppure bravura Di Provaccia Rivediamolo Non si vede bene Adesso Arriva Eccolo Cosa possiamo dire All'Ocri Non lo fischiavano No Forse sia una Una delle cinque calabresi Di messi giù Che merita di rimanere In quarta serie Io conosco Maurizio che ha giocato con me A Bovalino In serie D E' una persona per me E' una persona seria E' uno che capisce di calcio Vedere queste squadre calabresi Là sotto Onestamente Mi dispiace molto Io sono convinto Che l'Ocri Si può salvare benissimo Fermo restando Giuseppe Al momento c'è L'FA E' la L'FC La mezza Ormai è ritirata Per una calabrese Che manca E' Veramente Messa male Anzi malissimo La gioiese E' messa male Se non malissimo Anche il castro villari E a questo punto Si parla Che ci potrebbe essere Un eventuale play out Fermo restando Che c'è Tutto uno in girone Di ritorno Da disputare Tra In Locri E di San Luca A me dispiace pure Come ha detto il direttore Perché Secondo me Queste squadre calabresi Stanno vivendo Anche il momento Un po' critico Della Calabria Anche a livello Economico Io faccio un pauso Veramente al mister Panarello Ho avuto la fortuna Di condividere Non il letto Ma la stanza Con lui A Coverciano Un mese e mezzo Quindi Persona preparatissima Brava Innanzitutto Grande uomo Ma un uomo Un uomo vero Quindi sta facendo Un grandissimo lavoro E fare il play out In questo momento Insieme a San Luca Allenata anche Da un grande allenatore Che è Renato Mangini A me mi dispiacerebbe Ecco Quest'anno Per le squadre calabresi Almeno che non succeda Qualcosa il giorno Di ritorno Ma è un po' difficile Ho fatto i complimenti A Maurizio Panarello Ricollegandomi Al discorso di Giovanni Dovrei anche Menzionare Citare Evidenziare Il buon lavoro Che ha fatto Le sue Abbiamo fiducia In te E finalmente Mi pare che Questa fiducia Sia ricambiata Con delle buone prestazioni Nonostante la sconfitta Di Reggio Calabria I luoghi E uscita E merita Di rimanere In quarta serie Pubblicità Questo programma È realizzato In collaborazione Con Seconda via Fashion Store Il più grande Multibrand Della provincia Di Reggio Calabria I migliori brand Nazionali Ed internazionali Ci trovi a Reggio Calabria In via Santa Caterina 234 Presso il parco Commerciale Le Linfei E a Villa San Giovanni Presso il centro Commerciale La Perla dello Stretto Per il giorno Delle vostre nozze Sala Madame Lillà Perché i piccoli gesti I caldi sorrisi E gli sguardi carichi di effetto Rimangono impressi nel cuore Sala Madame Lillà A Palmi In Contrada Tauriana Telefono 0966 47 93 80 E allora Ritorniamo all'eccellenza Giuseppe San Biase a questo punto Ha qualcosa in più Rispetto alle altre Intanto può partire anche Il filmato Del San Biase Che ha vinto L'anticipo Con lo stilo monesterace Quando Si dice che È l'anno di quella squadra Non me ne voglia L'amico Claudio Non me ne voglia La dirigenza Però Ci sono stati anche Degli episodi Che hanno aiutato Il San Biase Ad esempio Con la Reggio Med Al novantesimo 1-1 Pallone parato Sulla linea Poi doveva essere Una sconfitta E poi Con la Silesi Mi dicono Che forse Crucitti In posizione irregolare Tra l'altro Tu hai visto anche La partita Io sono andato a vedere La partita E ti dico La partita difficile Perché Affrontare poi Le squadre Di mister Galati Non è mai facile Squadra Stilo monesterace Squadra umile Squadra di corsa Di carattere Quindi non è mai facile Affrontare queste squadre Il San Biase Aveva il problema Della Degli attaccanti Perché aveva fuori Mi sembra 3-4 attaccanti titolari Quindi Corso Lombaca E Crucitti Ha fatto Ha fatto la partita Il San Biase Poi Ha cercato in tutti i modi Di vincerla Non è stata una partita Bellissima Ma C'è stata quella voglia Veramente Di vincerla Qua sto vedendo anche Il gol Dicono che sia Forse Fuori gioco Di Di Crucitti Poi da dove sono io Da dove stavo io Non si vedeva Tanto bene Perché il campo a San Biase Un po' così Però La voglia E la cattiveria Per vincere la partita Ce l'hanno Ce l'hanno messa tutta Come dici tu Ci sono quelle annate Che ti gira tutto Io mi ricordo Per esempio L'anno di Sersale A noi ci giravamo tutto Anche se non eravamo Una squadra Molto giovane Perché Però Ci sono partite Che magari Le squadre Ti chiudono in porta A 90 minuti E tu una volta Che ti affacci Nell'area avversaria Fai gol E porti a casa I tre punti Quindi Non voglio Non voglio dire Che il San Biase È stato fortunato Però Si vede che c'è anche Un grande lavoro Dietro Di organizzazioni Di società Di tutto San Biase Qualcuno Qualcuno deve Incominciare Ad aprire gli occhi Noi siamo stati Possono squalificare Mi dispiace Se vogliono fare vincere Questo campionato Al San Biase Che poi è una squadra forte Lo dicono chiaro E non c'è bisogno Che noi Il Città Nova La Vigo La Messia Spende soldi Perché Sta diventando Proprio Una musica Sempre la stessa Io Non lo so Com'è Da noi Un gol dentro 20 cm Un rigore netto Uno sul tapparello E uno con un rigore netto Con la mano Ci sono Forse Non lo so Qualcosa Io Ti dico questo Io ne ho fatti Di questi campioni Ne ho fatti quattro Uno l'ho vinto Con il Bacalati E tre l'ho vinto Da consulente Però Io l'ho vinto Con il Bacalati Con dieci punti di vantaggio Però Meritatissimo Avevo Una squadra forte Gli altri tre Pure Però Queste cose Che stanno succedendo Quest'anno No Mi stanno bene Perché il Città Nova Ha speso dei soldi E La dirigenza Sta facendo grossi Sacrifici Però vedere Queste situazioni Mi dà fastidio Con la vittoria Dei tre punti Tu pensi che Deci punti di vantaggio Al San Biasi Sul Città Nova È una posizione Colmabile Oppure no? Guarda Nino Noi Veramente Sono otto Non sono dieci Speriamo in questi due punti Perché la società Ha pagato Ci sono i fatti I campionati Si vincono Dopo Trenta Trenta partiti In questo momento È favorito il San Biasi Ma noi ci siamo Noi Il giorno di ritorno Che cosa ci possiamo aspettare Sì È il giorno di ritorno Perché tutte le squadre Chi non vuole perdere la categoria Chi Tenta per entrare Nei playoff Chi vuole vincere direttamente il campionato Fa anche investimenti Nel mercato di dicembre Il giorno di ritorno Nel campionato di eccellenza calabrese È sempre duro Non ci sono quest'anno Squadra materasso Perché secondo me Anche andare a giocare a Paola Che ora vediamo Fanarino di coda Non è mai facile Ora non so Questa cosa degli albitri Come diceva Il direttore Ma io sono sempre Per La parte pulita Quindi non voglio nemmeno credere A queste A queste cose Però secondo me Cacciata la partita di domenica Saranno 15 15 partite Veramente Belle Da vedere Da studiare Da rispettare Allora Siamo Quasi alla vigilia Del ritorno Della Coppa Italia Questo mercoledì Al Moriale Proto Intanto possono partire Anche le immagini Del Reggio Ravagnese Che ha perduto Il derby Con il Bocale Questo mercoledì Al Moriale Proto Di ritorno Con il Bocale Zero a zero L'andata Non possiamo dire Che c'è il fattore campo Perché Se la squadra è forte Il fattore campo Non c'entra Assolutamente nulla Che gara sarà Manino Noi rispettiamo tutti Non abbiamo vapore di nessuno Noi siamo una squadra forte E lo stiamo dimostrando Domenica per domenica Io ti dico che Noi abbiamo qualche problema A livello Abbiamo tapparello squalificato Scarcello squalificato Ma io ti dico Che con la mentalità Che hanno i miei giocatori E il mister Noi ce la possiamo fare Abbiamo rispetto di tutti Un Bocale gasato Perché è rientrato In piena zona Play-off Un Bocale Che vorrebbe raggiungere Per la prima volta Questa finale Della Coppa Italia Un Bocale Che da quello che ho sentito Verrà Come giusto che sia A Cittanova A giocarsi la gara A viso aperto Ma è giusto Così io sono amico Con i fratelli Cogliando Lo sai Importante che sia Una giornata di sport Poi chi vince Vuol dire che ha ragione Se il Bocale vince Gli stringiamo la mano E basta Però noi Ti dico la cosa Giochiamo per vincere Perché abbiamo Le qualità E le condizioni per vincere Intanto possiamo dire Non me ne mostrano Gli amici Trebisacci Che la prima Finalista Sarà il San Bias Perché credo che sia molto difficile Che il Trebisacci Possa andare A San Bias A fare tre gol Credo che sia davvero Molto molto difficile Sì hai ragione Ormai La finalista E il San Bias Noi tentiamo Di fare Un'altra finale Perché il mister Nostro E parecchi giocatori Nostro L'anno scorso L'hanno vinto Giuseppe Aspettando Queste famose riforme Che dal mio punto di vista Non arriveranno mai Però è da qualche anno Dal pre-Covid Che continua a dire Che ci vorrebbe La vecchia serie C2 Però con un'altra denominazione La serie D Delete E poi fare una serie Di molto più morbide Dal punto di vista economico La prima riforma Che vorrebbero fare È quello di abbassare Gli under Da 4 a 3 Qualcuno si dice Si esprime in maniera positiva Qualcun altro no Se tu abbassi Gli under Da 4 a 3 Significa Forse sbaglio Che non hai fiducia Nei giovani Tu istituzione calcistica Oppure no Allora io spero Che questa Riforma ci sia Quella di mettere Una serie D Elite Perché il passaggio Fra la serie D E la Lega Pro È troppo Per una società Che non è abituata A fare il calcio Professionistico Anche perché Poi lì Ci sono Serie di contributi È un'azienda A tutti gli effetti Con Condipendenti E tutto quanto Devi mettere sotto contratto Anche I segretari I medici I massaggiatori Quindi non è Non è nemmeno facile Invece Fare questo passaggio Con la serie D Elite Secondo me È uno step In cui le società Si preparano Proprio Al mondo professionistico Per quanto riguarda Gli under Non è la questione Secondo me Di fiducia Perché se un under È bravo Poi lo fanno giocare Lo stesso Ma Si potrebbe alzare Anche il livello Come si è alzato quest'anno Il livello dell'eccellenza Che si è passato Da tre under A due Noi pensiamo Che in eccellenza Il 2003 Che ha 21 anni Ora Da gennaio E viene considerato Under Che secondo me È anche È anche È sbagliato Ecco Quindi Bisogna vedere Che Che anno Saranno Che saranno Che sceglieranno Di fare gli under Ecco Ecco Io la prendo per buona Quello che ha detto Il ministero Caro 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 Direttore Lui dice Se l'under È bravo È giusto che giochi Però alla fine L'allenatore Si innamora sempre Del cognome pesante Guarda Nino Io quando giocavo Io non c'erano gli under Chi era buono giocava Io non capisco Questi under Due Tre Quattro Io dico soltanto Una cosa Quando uno fa una squadra Non può pensare Agli under Quanto ne deve Poi un allenatore In panchina Che è nervoso Sostituisce l'under Come è successo Con la regina Tante solità Hanno perso Le partite a tavolo Perché Io dico Uno O fa gli schemi O fa il contabile Io dico Chi è buono gioca L'under Secondo me Tre Quattro Due No Liberi Come era una volta Una volta Non c'erano gli under Una volta Chi era buono giocava Ritorniamo alla quarta serie Paolo Scadà Ci descrive Questa partita Veramente Giocata Visaperto Dal Vibonese Ancora Un'alta espulsione E qui Bisogna darsi Una arregolata 2-2 Il finale Di Siracusa Una Vibonese Che esce A testa alta Così come Uscita a testa alta Qualche mese fa Non meritando Di perdere Sul campo Nell'attuale Capolista Trapani Vediamo il servizio Di Scadà Dopo il Trapani Anche la Vibonese Scendenne dal Desimone Di Siracusa Stavolta Con uno scoppiettante 2-2 Gaspare Cacciola Propone dall'inizio Al centro della difesa Sus Al posto di Marchic Per il resto Lo stesso 11 Pisto a Castrovillari Partita Con un gran Alternarsi Di azioni Nei primi 45 minuti Di gioco Ci prova subito La Vibonese Dopo 6 minuti Il sinistro Di Tandara E parato Facilmente Da Lamberti Al decimo E Zampa Che ci prova Dalla distanza Ma la palla Va ad incocciare Il palo Ha del bello Battuto Sul proseguo Dell'azione E Maggio Che prova Con una rovesciata Ma non inquadra Lo specchio Della porta E allora Ci prova La Vibonese Al ventiduesimo Con il sinistro Diciotti Insidiosissimo Che Lamberti Blocca Proprio Sulla linea Al ventiquattresimo Il Siracusa A provarci Con un forchignone Bella la percussione Dell'ex Catania Con tiro a giro Che si perde Però alto Al ventottesimo Sono gli ospiti A provarci Ancora Con un sinistro Di convitto Che finisce alto Di pochissimo Trentesimo minuto Due occasioni Per Vacca La prima volta Il destro Si perde fuori Nella seconda Invece Una gran fucilata Dal limite Trova del bello pronto A rifugiarsi In calcio d'angolo Ma il Siracusa Subisce Al trentaduesimo Il K.O. In contropiede La Vibonese A spazi aperti Dove Ciotti Si va a presentare Solo davanti All'Amberti Serve a convitto La più facile Delle palle gol Per l'uno a zero Ospite Il Siracusa Non ci sta La reazione immediata E al quarantatresimo La percussione Di Alma Trova Maggio Pronto di testa A indirezzare All'angolino Dove non può arrivare Il portiere Della Vibonese Allo scadere Della prima frazione Però ingenuamente Gozzo Mette giù Convitto in aria Rigore ineccepibile Lo realizza Tandara Il centravanti Della Vibonese Per l'occasione Addirittura C'è la seconda munizione Per Borgia Che viene espulso Secondo tempo Quindi con il Siracusa Con l'uomo in più E con una ripresa Che parte A testa bassa Da parte degli azzurri Che vanno vicino Al gol al sesto Il sinistro Di Alma Da fuori Si perde Alto di poco Ma quattro minuti dopo La rasoiata a giro Dal limite di Zampa Trova l'angolino giusto Che batte Il portiere Del Bello Due a due Il finale di gara Trova un Siracusa Pronto ad attaccare Con un modulo 4-2-4 Già visto A Ragusa Che produce Soltanto al dodicesimo Un tentativo Intuffo Di testa Da parte di Maggio Che non ci arriva Sul cross di Alma Ma soprattutto Proprio allo scadere Al quarantacinquesimo Corner Di Ocidiacono Veraliperta Il colpo di testa Di Suss Si perde Alto Finisce così Due a due A gioire E il Trapani Che spugna Ravanusa E adesso Si porta A più quattro Sul Siracusa E più cinque Sulla Bibonese Grazie davvero A Paolo Scatà Ritorniamo Al campionato Di eccellenza Visto che Si stava parlando Di giovani Credo che La società Che ha Totalizzato Più under Nel rettangolo Il gioco Sia senza Ombra di dubbio La Morrone Tu il campionato Lo puoi vincere Tu il campionato Lo puoi perdere Però quando Decidi Di sposare Il progetto giovane Bisogna fare I complimenti Perché Hai le idee Ben chiare E quando decidi Di sposare Il progetto giovane Significa anche Ammortizzare I tanti costi Che ci sono In questo campionato Andiamo su queste immagini Della 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 Morrone Che ha pareggiato Sul campo Del Praia Addirittura Era andata Per prima in vantaggio La Morrone Poi alla fine La formazione Di Aita È riuscita Ad Ottenere Il pareggio Giuseppe Morrone Sono aiutate A prendere Come esempio Sì Morrone E io metterei Anche Il Rende Società Che fanno Giocare I giovani Se tu vuoi vedere Sono le due società Che hanno Un settore Giovanile Molto importante Anche perché Mi sembra Che insieme Al Bocale Sono le tre società Nel campionato D'eccellenza Che fanno Di Alevelit Che è un campionato Molto importante Molto più importante Secondo me Anche della Juniors Quindi loro credono Tantissimo Nei giovani Li preparano bene Quindi vuol dire Che hanno anche Allenatori Nel settore Gionnale Molto ma molto Preparati E i risultati Stanno vedendo Giovanni Non ci diciamo Gli anni Perché non ce lo Dobbiamo dire Però qualche partita Tua l'ho commentata Soprattutto quando Giocavi a Rosarno E poco fa Mi parlavi Che quando giocavi Tu Gli under Non esistevano Giocavi Veramente Chi Chi meritava Però è anche vero Che una volta Sin da piccolo Andava a giocare Per strada Nelle piazze In chiesa Adesso Ti faccio una domanda No? Adesso Te la faccio io E te una domanda Tu vedi qualche ragazzo Che gioca Nella strada Assolutamente no Perché intanto Ti mancano le strade Io mi sono cresciuto Nel rione Reggio Modena Tu lo sai benissimo Era un rione Dove sono usciti I migliori giocatori Di Reggio Noi la sera C'era uno spaziale Sotto casa mia E giocavamo Nel cemento Là io Ho incominciato A Tattirare Qualche calcio Allora C'era una signora Che diceva A mia mamma Vostro figlio Mi ha rotto il vetro E io E mia mamma E mio padre Mi dicevano Ma perché Giochi sempre la sera Io dico una cosa Oggi non c'è un ragazzo Che gioca più per strada Ora queste scuole calcio Lo fanno A scopo di business Non è che lo fanno Ad imparare I ragazzi Oggi è che è cambiato Molto il calcio Tu stai avendo un access Particolare Perché quando parli Di scuola calcio Qui parliamo Di una scuola calcio D'élite Felice Natalino Dove Qui presente Giuseppe Da anni Collabora La vostra scuola Fa business? No No perché Se tu vai a vedere Anche I risultati Non sono Grandissimi Ma Ogni anno Questa società C'è da i tre Quattro Cinque ragazzi Li mandano ai professionisti Perché Non vanno a vedere Il risultato Fanno giocare Anche ragazzi Sott'età Solo per il bene Del ragazzo Ci sono anche Molti giovani Che non riescono A pagare la retta Ma Lì La Felice Natalino Non c'è nessun problema Loro preferiscono Portare un ragazzo Al campo Che invece Di tenerlo in mezzo La strada Non per giocare A pallone Ma Per fare altro E come dice il direttore È vero che In strada Non si gioca più Il genitore Preferisce portare Il figlio A scuola calcio Perché vede Un ambiente più pulito Io spero Anzi Gioisco Quando vedo I miei figli Scendere sotto A giocare nel cortile Perché secondo me I ragazzi Non si sbucciano più Le ginocchia Non si rompono più Il dito La mano Li Li facciamo vivere Veramente sotto Una campana di vetro Sempre con questi tablet Di cellulare in mano Secondo me sono stata La vera rovina Dei giovani Ecco Quindi Sono anche per il calcio Sono anche per il calcio Strada Ma anche Per la scuola calcio Basta che sia Un ambiente dove c'è gente Innanzitutto preparata A far crescere i ragazzi Intanto caro Giuseppe I numeri dicono Che negli ultimi anni Tanta gente Tanti ragazzi Non si avvicinano più al calcio E bisogna chiedersi perché Tu te lo sei chiesto? Io Ti faccio un esempio A Sersale avevo Dei ragazzi bravi Di Sersale Che quando venivano al campo Chiedevo Ma come mai Antonio e Francesco Non sono nel campo? Avevano il torneo Della Playstation A casa A casa di un amico Io come ti ho detto prima Tutti questi giochi Sti Sti Console Sti social Un pochino I ragazzi Lo distraggono Non voglio pensare Che vedano nel calcio Un mondo brutto O sporco Tra virgolette Che non gli appartiene Questo non ci voglio Proprio pensare Ma invece Do la colpa A quel mondo Delle console Parzialmente D'accordo con te Quando tu Inserisci il mondo social Io dico Che una componente Fondamentale In maniera negativa E qui andiamo Nell'antipatia Che Trasmetto A chi Mi sto Mi sto Riferendo Sono i genitori Dove i genitori Pensano di avere Il campione in casa Dove i genitori Se l'allenatore Non fa giocare Il proprio figlio Ti chiede conto E quando il ragazzo Per una Due Tre partite Viene accantonato In panchina Perché evidentemente Non è arrivato Il turno suo Per giocare Dopo un mese Decide di abbandonare il calcio E magari Dedicarsi Alla palla a volo Alla palla a nuoto Dico Uno sport qualsiasi Quindi non è solamente Il social Che contribuisce Ad allontanare il ragazzo Dal rettangolo del gioco Ma sono soprattutto Le famiglie Io la colpa Ad ora la diamo Ai genitori Perché In buona parte Sì purtroppo Se il figlio Torna a casa Dicendo Oggi non ho giocato Il papà non deve dire Vada martedì Non vai più Andiamo in nostra società A me invece deve dire Impegnati di più Che forse l'allenatore Ha visto Qualcosa Di non buono Durante la settimana Quindi impegnati Lavora sodo Anche perché Altrimenti Come potrebbe succedere Nel calcio Potrebbe succedere Nel mondo del lavoro In futuro Non mi piace Questo tipo di lavoro Che mi sono scelto E me ne vado Quindi noi dobbiamo Anche educare Ecco La cultura del lavoro I giovani Per quanto riguarda Il calcio Cultura del lavoro Settimanale Fisico Tecnico Tattico E per quanto riguarda Anche la vita Per quanto riguarda Un futuro lavorativo Per me è stato Rimane un talento Purtroppo Non apprezzato E questo talento Ti tocca direttamente Caro direttore Un ragazzo Che io stimo molto Dal punto di vista Educativo Anche perché Ha la grande fortuna Di avere Come nonno Maestro di vita E poi Ha la grande fortuna Di avere Alle spalle Un papà Che ha giocato a calcio Un papà Che sa Il fatto suo Marco Condemi Cosa diciamo Di Marco Il mio figlio No non devi parlare Da papà Devi parlare Da Io ti dico una cosa Marco è stato A Reggio Tanti anni Ha giocato in B Ha giocato in C L'hanno trattato No male Malissimo Ma pure Per colpe sue Questo è Un giocatore In eccellenza Che è sprecato Ma pure in Serie A E lo sta Infatti dimostrando Quest'anno La gente Di Città Nova Gli vuole bene Lui ha trovato L'ambiente giusto Possiamo andare Su filmato Di Città Nova C'è il primo gol Di Marco Condemi E guardare Con quale freddezza Ha segnato il gol Lui sta Sta facendo pure bene Prego Giovanni Puoi continuare Lui sta facendo pure bene Non perché è mio figlio Però Ha delle doti Eccezionali E' uno che Corre molto Si impegna E' uno che corre molto Si impegna E' un giocatore Per questa categoria Extra Allora concludiamo Con l'ultimo filmato Che arriva All'isola Caporizzuto Dove la Palmese Per la prima volta In questo Campionato Si trova In piena zona Play out Te l'aspettavi Giovanni? No Io non me l'aspettavo Perché Onestamente Avevo visto l'isola Contro Contro di noi Però sicuramente Avranno qualche Qualche problema Mi dispiace Per Ciccio Sergi Che è una persona Che io stimo E rispetto Che si trovano In queste condizioni Palmi Merita qualcosa di più Mi auguro Che la Palmese Possa svoltare Palmi E' una piazza Che Stimo molto E' una piazza Dove si può fare calcio E mi auguro Che quest'anno La Palmese Ma non ho dubbi Possa centrare L'obiettivo Della Della salvezza E eventualmente E eventualmente Anche programmare Il prossimo anno Un torneo A vincere Anche perché Ormai Ormai I punti Di lunghezza Rispetto Alla zona Playoff Sono davvero Tante Anche se Diciamo Dal terzo posto Vigor La Mezzia Al posto Dove c'è La Palmese 16 punti Mi pare Che la classifica È abbastanza corta È una piazza Dove si può fare calcio Hanno mentalità Hanno tutto Mi dispiace Che si trovano In queste condizioni Palmese Ti ripeto Merita Molto di più Bene Grazie davvero A Giuseppe Saladino Grazie Per questa Mini trasferta Che ti ho fatto fare Ma quando Esiste anche L'amicizia Esiste tutto E per noi Il calcio È soprattutto questo Non ci ha donato Miliardi Ma ci ha donato Una grande fortuna Cioè quello di avere Amicizia E sparsi in tutta la Calabria Io ti ringrazio Veramente per l'invito Vengo Sempre volentieri E ti ringrazio Veramente per la stima Grazie Giovanni Bocca al lupo Per questo mercoledì Dico Vinca il migliore Che sia Una gara corretta E poi mi pare Che Graziano Arreduce Dalla Dalla vittoria In Coppita Lo scorso anno Con la Giuseppe Come tanti giocatori Che ho Sono regi Da questa situazione Comunque Io ti ringrazio Per l'invito Quando vuoi Io sono sempre A tua disposizione Grazie Vi auguro che veramente Mercoledì Alla Monreale Pro di Cittanova Ci sia tanta gente Perché Bocale Cittanova Sarà veramente Una gara Degna Di una finale Di Coppa Italia Per il momento è tutto Appuntamento a Mardi l'altro Sempre sul canale 12 Per il territorio regionale Di Tele Europa Network 10 E poi replicato Anche dal canale Siciliano 87 Di Teletrice Siracusa Per il momento è tutto A voi tutti La più cordiale Buonanotte Questo programma È realizzato In collaborazione Con Sostenibilità È la parola chiave Del futuro E Redel Green Energy Si occupa Da più di 40 anni Di efficientamento energetico Ed energie rinnovabili Il futuro È green Scegli Redel È un veditamento E un veditamento Di rebitamento Di Grazie a tutti